Quattro squadre divise da tre punti, in corsa per l'unico posto che conduce i dritti dritti in eccellenza. Anche se la stagione resta incerta, inizia a scremarsi progressivamente il lotto delle formazioni in lotto al vertice del Girona di promozione Abruzzo. L'ultima giornata di campionato, quando alla fine della stagione regolare ne mancano quattro, ha detto un paio di cose. Le distanze in testa si sono nuovamente accorciate, mentre Santomero e Mutignano, ora a meno sede al vertice a meno di un filotto, difficilmente potranno correre per il primo posto. Al comando resta San Gregorio, raggiunto nel finale a Colonia, che ha sciupato una grossa occasione per tenere a distanza le inseguitrici. In seconda posizione è tornata la Virtus Teramo, che ha vinto lo scontro diretto in casa con il Pontevomano, e nonostante abbia un calendario difficile, la squadra di Capitanio medita già al sorpasso. Un gradino sotto ci sono i Nerostellati, che con i denti sono riusciti nel finale a vincere la resistenza al Santomero, che ha perso invece di vista la prima piazza. Arranca anche il Pontevomano, battuto dalla Virtus, con la necessità ora di recuperare il terreno perso. A quota 50, come detto a meno sede al vertice, sono appaiati Santomero e Mutignano, che possono a questo punto ambire forse solo a strappare una qualificazione playoff, soprattutto se quelle davanti continueranno a correre. I giochi forse verranno fatti solo all'ultima giornata. Nel frattempo, la prossima riserva Santomero Virtus Teramo e San Gregorio Castellalto. Le altre, che gravitano nei quartieri alti, saranno impegnate in sfide incrociate con la formazione in lotta per la sopravvivenza. Lotta salvezza che è tornata ad accendersi dopo il successo in volata del calcio Giulianova. I giallorossi, a secco da cinque mesi, hanno rialzato la testa. Ora hanno cinque punti di vantaggio sul poggio parisciano, ultimo in classifica, e cosa importante, si sono riagganciati alle altre formazioni che sgomitano per uscire dai play-out. Nel Calderone ci sono anche Real Carsoli e Cologna, e dunque lo sprint è tutto da vivere fino alla fine per decidere la salvezza, retrocessione diretta e griglia play-out. Con 12 punti a disposizione, ogni situazione è ancora in itinere. Nel frattempo, il notaresco ha vinto oggi per 1-0 il recupero con il Fontanelle. Tre punti di platino per il rosso-blu in chiave salvezza, che avevano invece perso sul campo la partita, poi fatta rigiocare per un errore tecnico dell'arbitro. Una beffa invece per gli uomini di Pietro, che rimangono attardati rispetto alla zona play-off, dove avevano gravitato per buona parte della stagione.